Il mondo è tutto sbagliato, non dà opportunità ai giovani e li incastra in un futuro fatto di ingiustizie. Colpa degli affitti che sono inavvicinabili, i prezzi delle case troppo alti e gli stipendi troppo bassi, del fatto che non avremo mai una pensione e che il mondo del lavoro fa schifo perché le aziende non sono attente al benessere. E diciamocelo, le performance fanno venire l'ansia. E poi non si possono fare figli perché mancano i sussidi e i servizi di welfare, mica come negli altri paesi, dove non si capisce perché è tutto sempre migliore e favoloso. Certamente in questa descrizione delle difficoltà contemporanee c'è del vero, ma cosa ci guadagniamo a raccontarle con un tono così disfattista, che denuncia qualsiasi piega della società, del mondo del lavoro e della cultura come meteorite in arrivo? Il problema è che molti tra i nuovi media digitali, vale a dire gli account social che sono nati come progetti di divulgazione ed educazione per la generazione Z e millennial, hanno scelto questa narrativa che ogni giorno gli dice che non ce la possono fare perché non gli vengono date occasioni. Lo fanno perché hanno bisogno di intercettare abitudini, comportamenti e sentiment della community per poi produrre contenuti che possano stimolare l'identificazione e quindi ottenere interazioni. Se però nessuno fa da contrattare a questo racconto, tipo i media tradizionali che non hanno saputo rinnovare il loro linguaggio, succede che questo sentire giovanile viene imprigionato in una bolla e assume la forma della profezia che si autoavvera. Perché nessuno uscirebbe di casa ad affrontare la giornata se ha qualcuno che costantemente gli sussura nell'orecchio che diluvia, che un'auto può investirlo, che c'è lo smog, che può essere derubato o che un fulmine potrebbe colpirlo in più. Quindi chiediamoci se non stiamo sbagliando qualcosa e se non sia invece meglio dire che ogni generazione ha dovuto fare conti con uno scenario in parte favorevole e in parte avverso. Che i problemi li hanno dovuti risolvere un po' tutti e soprattutto che si possono risolvere.